ciao benvenuti a cazzeggio catabiotrico ciao benvenuti ad un altro episodio di cazzeggio catabiotrico in questa puntata discuteremo brevemente di ufo e pulp monks ciao ciao benvenuti in questa puntata ufologica molto densa di informazioni e di immagini grazie all'analisi del blog mia fantascienza è stato possibile dare una stima piuttosto affidabile sui numeri e le date di tecnologia aliena mostrate nelle pulp monks definendo con tecnologia aliena la prima iconografia utile della rivista circa la rappresentazione di foo fighters oppure un ufo discoidale o qualcosa che ne abbia una buona rassomiglianza si può dire quanto segue la nota rivista di fantascienza IF WORDS OF SCIENCE FICTION mostra la prima suggestione utile circa due ufo piattiformi solo dal numero di maggio del 1952 a corredo del racconto Infinity's Child dopo tale data compaiono ovviamente nella rivista anche altri oggetti di forma piattiforme che sono stati rielaborati in vario modo dagli illustratori la nota rivista di fantascienza Galaxy mostra invece la prima suggestione utile circa due ufo piattiformi solo dal numero di ottobre 1950 a corredo di un articolo ufologico Flying Saucer Friend Foe or Fantasy dopo tale data compaiono nella rivista anche altri oggetti di forma piattiforme che sono stati rielaborati in vario modo dagli illustratori la nota rivista di fantascienza Planet Stories invece mostra la prima suggestione utile di un ufo piattiforme solo dal numero dell'inverno del 1940 a corredo di un racconto One Thousand Smile Below dopo tale data compaiono nella rivista anche altri oggetti di forma piattiforme che sono stati rielaborati in vario modo dagli illustratori la rivista Startling Stories mostra invece la prima suggestione utile circa un ufo piattiforme solo dal numero di novembre 1939 a corredo del racconto The Fortress of Utopia dopo tale data compaiono ovviamente nella rivista anche altri oggetti di forma piattiforme che sono stati rielaborati in vario modo dagli illustratori del tempo la nota rivista di fantascienza Astounding Stories invece propone un ufo piattiforme solo dal numero di novembre del 1933 a corredo di un racconto Dead Star Station di Jay Williamson dopo tale data compaiono nella rivista anche altri oggetti di forma piattiforme che sono stati rielaborati in vario modo dagli illustratori è invece del 1932 marzo 1932 la bella suggestione di due dischi volanti nei pressi della luna di cui uno con una sorta di piramide a gradone nel centro nell'immagine a corredo del racconto Wondall the Invader di Ray Cummings è invece del 1931 settembre 1931 la prima suggestione utile della rivista Astounding Stories relativa a due dischi volanti nell'immagine a corredo The God in the Box di PS Wright la rivista di fantascienza Air Wonder Stories alias Wonder Stories alias Wonder Stories Quarterly mostrano il primo UFO nave madre di forma piattiforme in orbita terrestre dal numero di Wonder Stories Quarterly estate 1931 a corredo del racconto Vandals of the Void c'è poi una seconda suggestione cronologicamente poco distante prima raffigurazione utile per Wonder Stories nell'agosto del 1932 con un UFO di forma piattiforme a corredo della novella Flight into Supertime in Science Wonder Stories è la copertina del novembre del 1929 in cui compare il primo UFO in orbita attorno alla Terra come iconografia discoidale circa un non ben noto non ben specificato racconto di fantascienza dopo tale data compaiono ovviamente nella rivista anche altri oggetti di forma piattiforme che sono stati rielaborati in vario modo dagli illustratori è tuttavia il magazine di fantascienza Amazing Stories Amazing Stories Quarterly che forniscono dall'aprile del 1926 fino al gennaio del 1976 moltissime suggestioni interessanti di tipo ufologico è di Amazing Stories in aprile del 1948 il primo plateale racconto di un UFO crash nella novella The Monster from Mars di Alexander Blade la fabula è composta da un UFO crash accaduto ai tempi moderni in una giungla lontana dove le autorità indagarono mentre contestualmente dall'astronave aliena ebbe ad uscire un mostro marziano che in Amazing Stories del 1947 febbraio 1947 un'illustrazione di un possibile Foo Fighters osservandone appunto forma e dinamica di volo in allegato al racconto Orphan of Atlantis di W.L. Hamling è invece del luglio del 1943 su Amazing Stories la suggestione in cui si vedono per la prima volta dischi volanti che ronzano intorno ai bombardieri è invece in Amazing Stories dell'agosto del 1935 in cui sventola in prima pagina lo shape di un oggetto elissoide di colore giallo-aranciato che mette luce quasi come fosse un piccolo sole Amazing Stories Quaterly dell'autunno del 1929 propone in copertina dei dischi volanti piatti formi e varie altre suggestioni ufologiche a corredo del racconto The Other Side of the Moon è invece Amazing Stories in novembre 1929 che presenta un'illustrazione in bianco e nero che risulta essere stata colorata dal proprietario della rivista che poi dopo successivamente la rivista è stata scannerizzata in cui compaiono oggetti simili ai Foo Fighters inoltre esiste la raffigurazione di una specie di nave aliena metallica di forma illissoidale con entità aliene non troppo dissimili dagli alieni di H.G. Wells le illustrazioni sono a corredo del racconto di H.Vincent Microcosmic Buccaneers è invece Amazing Stories del settembre del 1929 che propone la suggestione grafica con due UFO a forma di due palle volanti e luminescenti con shape simili quindi ai Foo Fighters Fenomenologia S.Dalen a corredo del racconto Station X è invece in Amazing Stories dell'aprile del 1928 che propone a corredo del bel racconto Baron Munchausen's Scientific Adventures edito proprio da Hugo Gensbach una suggestione con dischi volanti ed oggetti sferici che potrebbero ricordare i Foo Fighters è infine Amazing Stories del maggio del 1926 che propone una suggestione ibrida e di criptica interpretazione a corredo del racconto The Infinite Vision ci sono vari oggetti di forma sicuramente siluriforme quindi con shape addirrigibile e tecnologicamente poco interessanti ma sono proposti nella rappresentazione grafica anche due oggetti che per il modo in cui sono stati disegnati dall'illustratore potrebbero essere interpretati dall'occhio umano anche come con forma semidiscoidale disponendo al centro del veicolo di un'elica intubata giungiamo quindi al termine di questa bloggata audio ricordandovi che in fondo nella descrizione del video di youtube c'è il link che vi conduce alla mia bloggata paleofologica dove troverete in dettaglio tutto quanto vi ho rapidamente descritto in questo podcast ora il punto principale è tirare le fila lungo questo praticamente analisi storiografica della raffigurazione ufologica quando c'è stata dentro nelle pulp mags una raffigurazione compatibile con della tecnologia aliena l'iconografia più vecchia attinente ad uno shape sicuramente a disco volante risale all'aprile del 1928 su Amazing Stories su Amazing Stories l'iconografia più vecchia attinente ad uno shape sicuramente compatibile con la fenomenologia Foo Fighters Lucy D.S.D.A.L.E.N.E.N.E.S. la si ritrova in Amazing Stories del settembre del 1929 l'associazione tra dischi volanti e Foo Fighters comparve nell'iconografia delle pulp mags molto prima del fenomeno Foo Fighters mostrando così raffigurazioni e potenziali contesti inerenti a probabili avvistamenti UFO che poi potrebbero essere stati permutati o remixati i racconti di fantascienza dagli autori proprio per trarne una monetizzazione dell'evento a cui avevano assistito è possibile che la raffigurazione grafica in Amazing Stories del maggio del 1926 sia la protogenesi dei dischi volanti come creazione artistica ibrida nelle pulp mags da cui sono nate le astronavi siluriforme dirigibile e propulse immaginariamente a razzo oppure degli oggetti discoedali ora tuttavia pensare che l'iconografia delle pulp mags sia l'unica causa che ha alimentato la Oax e falsi avvistamenti riconducendo tutto il fenomeno degli avvistamenti UFO a delle balle reiterate per emulazione umana è sinceramente un grave errore sono infatti numerosi gli avvistamenti di oggetti discoedali e sferici e tubolari osservati in un passato molto più distante dal 1926 che finirono rappresentati in quadri e o descritti in annali o protogiornali vedere ad esempio l'evento di Nuremberg del 14 aprile del 1561 quanto il caso nel 1754 della contattata Elisa Haywood autrice del testo The Invisible Spy in cui è possibile tuttavia rintracciare chiaramente la presenza di un artefatto alieno moderno decisamente fuori contesto storico perfettamente descritto nel 1754 nelle sue funzioni senza che l'autrice compia nessun errore di previsione un saluto ciao ciao